e ciao ragazzi e ragazzi sono Tatto1003 e siamo qua in questo nuovo video di Fortnite in compagnia di Greyshark90 bella raga oggi andiamo a condotti confusosi davvero vuoi andare a condotti confusi? si si eh vabbè buon succedio a noi biscotti confusi vabbè andiamo a biscotti confusi vai stai precipitando come un lampo si perché ho le fiamme giustamente io sono uno scioppone no non è vero ho scioppato solo il pass battaglia con 25 livelli allora è essere un scioppone? cioè io su Fortnite per farti aprire ho scioppato solo 20 euro invece c'è Ciccio Gamer che ne potrebbe anche aver scioppati mille cioè dici 20 euro e solo? si solo 20 euro eh lo sai perché Dio solo perché Ciccio Gamer ne avrà scioppati più di mille ma cosa vuoi che mi freghi quanto ha scioppato Ciccio Gamer? infatti sta che scioppi tanto non bisogna scioppare nei giochi ci tolgono i soldi ci tolgono la fame ci tolgono la vita infatti l'unico modo per avere robe faighe sui giochi senza scioppare è una cosa molto semplice è una cosa molto semplice fatta dal tutorialare mike05sv salve a tutti bimbi oggi il vostro topino barra volpino di nome mike05sv vi spiegherà come avere tanti tante tante monete di gioco sui giochi ma senza scioppare con le hack? è molto semplice è molto semplice o usate i siti tarocchi che vi conferiscono appunto tutte ste robe ma i siti tarocchi diciamo che no, noi stiamo a pensare alla partita che se non moriamo come di nobby beh, i siti tarocchi non vanno usati perché siamo poco belli ti spello non puoi parliamo a caso dai cioè smettere di parlare a caso pensiamo alla partita ora non c'è bisogno di ululare non c'è bisogno di ululare siamo dei lupi ecco e se ci facciamo il fortino qua? ci siamo lupocchiotti se facciamo il fortino sotterraneo? non lo so il fortino sotterraneo mi sembra un'idea non stupida di più però vabbè eh vabbè noi facciamo sempre cose stupide se no perché esisterebbe il canale di tatato13? infatti se no perché esisterebbe ogni lui mi ama why? l'illuminama esistono? lezione di scienza by signor Greyshark l'illuminama esistono perché il nico è bello basta questo lo sapevo già grazie più e mi dice questa cosa avrà 11.000 sottoscianti un po' giallo grazie infatti è tutto ciò che si si finalmente non ti lagga più la voce infatti non mi sta laggando perché sto parlando in modo depresso e la play si sta deprimendo così tanto per il mio modo di parlare così depresso che ha smesso di deprime se non lagga più finalmente non ti lagga più la voce alleluia Dio esiste no il fortino sotterraneo no è veramente la no serio non sto scherzando è la cosa più stupida che un uomo possa mai fare perché è una cosa stupida perché c'è perché c'è io nel fortino ci sto io nel fortino sotterraneo ci sto io ci visto c'è il sotte c'è il sotterraneo c'è ciò che è sotterraneo è sempre ricollegato al fortino al termine di fortino quindi c'è un fortino che è proprio quello che è all'interno zitto sto parlando è di più un bunker direi e comunque dai proviamo non ci ho mai provato a fare il fortino qua va bene ora fammi prendere tanti materiali e tante robe perché io non voglio che ci uscidano malamente come le altre volte poi ditemi nei commenti se volete che porti più video su questo gioco anche se tutti gli anni di sì però sai ci sono i fanatici di braulavla come no nessuno è fanatico di braulavla tranne il suo cosiddetto e non è oh mio dio un bo un cecchino bolt action che nessuno si era incumato perfetto il mio fortino è perfetto però vengo qua te lo miglioro con un po' di modifiche ah mio dio c'è un'altra parte del fortino qua che bella cosa aspetta sto venendo eh allora dunque qui dobbiamo fare una serie di porte aspetta per ingannare i nemici e e e ma quale serie di porte aspetta lo riempiamo di finestre anzi no è meglio di no danzo no per te è una buona idea fare un fortino sotterrano al piano di finestre? why? ok risatina steica intensified però io io voglio voglio fare tutto bello oh ma qua Nico si prendono le ceste però eh perché? Nico ce l'è una ce l'è una strappola no purtroppo perché? perché qua potevamo fare la strappola una strappola assurda qua dove c'era la ceste ci ci lasciamo un po' di loot il tizio dice oh che bello c'è del loot qua sopra ci mettiamo il tettuccio con la trappola e ci crepa male eh purtroppo non ce l'ho ma immagino Nico pia si sto shield grande vieni ma è così ho lasciato al massimo che aspetta io sto espandendo tutto il qualche generale poi fra io c'ho tantissime mi piace tantissime idee per questo fortino aspetta qua siccome verso l'esterno ci metto una finestra e poi però qua tappo con questa questa porta qua con una porta vieni qua mamma mia panico vediamo poi chi sta hai visti che bella roba è venuta qui già sono scezionato a questo fortino qua bisogna mettere 8 vedi è che un un sai veramente addobbare bene scende ha bisogna ha bisogna fatturare c'è tutte le volte mi sembra che questa porta porti fuori mentre invece c'è io che lo scambio per un prato questo non so perché aspetta oh mio dio siamo ancora in safe una nene 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 ma io ho il cecchino ma qua blindiamo sotto qui abbiamo spazio per fare dai facciamo per ma qua vedi perché poi ci ammazzano perché qui lasci qua non finisci di fare il tetto vedi da qui ci uccidevano malamente vedi perché serve l'architetto grey shark no ok qua facciamo un'altra porta qualche porta la mettiamo per fare tipo uscise varie perché chiaramente se ci bombarda non è che possiamo stare qua si è così i nemici entriamo a sfondare invece di sfonderci il muro ci entriamo dalla porta dai grande oh eh ma qualche porta si ma io le porto infatti la costruiamo sul momento se ci ha bisogno va bene va bene però dove l'avevo guarda aspetta eh no qua la porta va fatta perché qua ci avevo messo una finestra per sparare perché è molto probabile che la maggior parte dei nemici potrebbe arrivare da qua la maggior parte mi arriva scommetto che ne arriveranno due a ammazzarci la maggior parte dei nemici mi si può vedere va ecco ora si che è perfetto perfetto ok bello questa è la mia stanza vai via io 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 ci entro sembra una strada questo qua con gli animali questa è la mia guarda io sono fanatico degli spari infatti ho il mio bellissimo punto d'avvistamento che mi sa che noi qua bisogna bisogna abbandonare lo so fortino perché secondo me la sef si chiuda da tutt'altra parte li facciamo così per soddisfazione però c'è effettivamente una cosa troppo bella il fortino sotterraneo così eh te lo volevi fare no perché a me mi sembrava una cosa stupida perché un fortino sotterraneo è come un bunker c'è ed è come se fosse già fatto c'è il sotterraneo è come un fortino bello e fatto ecco già sento degli spari qua vicino anche io se li senti se li spari qua vicino c'era forse stanno a fight per l'airdrop siccome ce l'abbiamo qua vicino mi sembra io sento tanti spari però senti fino a che non si chiude la safe da qualche altra parte noi stiamo qua a chiudere qua dentro belli chiusi chiusi con come delle tè e stuggini vabbè lo lascio così questo aspetta in ottima eh ecco e si chiude fuori la safe però ce ne dobbiamo andare ce ne dobbiamo no rimaniamo intanto abbiamo ancora un minuto e quarentotto abbiamo ancora un minuto e quarentotto ma ci sono sono qua sopra da qualche parte fra cerca di non fare rumore perché poi a capa ci si sentono perché se c'hanno le cuffie buone ci sentono così così proprio non ci sono fessure se ne creano da soli le fessure loro ovvio no sai tu che stai spaccando? no come ce la spacc... rimpiccioliamo il territorio Redo facciamo come se per loro fosse un labirinto così mi troviamo male c'ho tante idee però poi a capace ci perdiamo noi sì no fra senti ora io il labirinto non lo farei perché c'è è fuori safe eh lo facevo in casa in emergenza bisogna andare no aspetta anche ormai mi so che ce ne dobbiamo andare che comunque c'è sento ancora qualcuno non possiamo andare ora come senti ancora qualcuno aspetta ok si c'è ancora qualcuno si però fra ci dobbiamo muovere dobbiamo andare in safe aspetta ecco che ti avevo detto? aspetta l'ho killato l'ho messo a terra eh ma è più di uno è più di uno aiuto mi sono messo a spiegare a caso aiuto aspetta aiuto aiuto, non so come combattere e vabbè bravo vediamo vediamo questo qua sopra il che ci aveva di bello da darci da darci la morte direi vabbè prendo veloce non c'ho tempo di luttare a modo prendo veloci colpi e me ne vado andiamo ce nè che questa safe lenta la possiamo superare facilmente non è che una è più veloce una più lenta e dipende dalla grandezza del punto infatti no perché le ultime safe sono una più lenta dell'altra perché si restringe sempre di verso la fine la safe si restringe sempre di meno e quindi in conseguenza come c'è l'air drop il suo peso no non posso essere così sfortunato no no niente vabbè vedo no no aiuto vedo aiuto no come come fa ma perché sei ma che hai fatto questo testo del cavolo mi ha ammazzato vai in safe sono in safe aiutami frappor io non è che sto messo tanto ma ok no no c'è ma ho visto merda scappa non pensare a me è so che non lo prendo c'è dei fai addio mondo chiudere questa è la mia fine cavolo no non lo prendo cosa con una mitraglietta c'è io con un fucile d'assalto non lo riuscivo a prendere ci siamo posizionati i sesti è buono con la mitraglietta da lì mi ha preso ok questo ci sono su pc ora siamo sesti un buon è un buon treguardo comunque quindi gg spero che il video vi sia piaciuto alla prossima ciao